Una interpellanza dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle per avere informazioni in merito allo stato dei passeggi di Fano. Questo luogo è sprovvisto da dicembre 2019 del cancello d'ingresso nella zona del Ponte Rosso, dopo che un furgone si è schiantato contro, sradicando parte della recinzione, i cubi in granito e appunto l'entrata. Inoltre i pentastellati chiedono a che punto sia il progetto dell'Enel che prevedeva l'installazione di alcune panchine tecnologiche, defibrillatori, postazioni di ricarica per le biciclette elettriche e videosorveglianza, come annunciato ad aprile dello scorso anno attraverso una conferenza stampa in comune. A risponderci oggi a queste domande è l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori. È un luogo straordinario dove ci siamo presi un impegno, un impegno che manterremo, è già in work in progress. Le tre panchine tecnologiche, le due telecamere che sono state promozionate da Enel verranno installate a breve. Chiaramente io quando mi sono esposta avevo già annunciato che ci sarebbero voluti dei tempi amministrativi per le pratiche, perché non è un'opera che realizza direttamente il comune, ma è per conto di Enel. Quindi tutte le autorizzazioni necessitavano di un po' di tempo, ma siamo arrivati nella fase finale, per cui mi auguro che entro settembre dovremo avere tutto operativo questo sistema, per cui un'area che si posizionerà di fianco a quella dei giochi, vicino al chiosco, e quindi che sarà a servizio della comunità. In più sta proseguendo la progettazione partecipata, curata dal Consiglio dei Bambini e delle Bambine, sulla riqualificazione dell'area dei passeggi, che presto diventerà un parco e un giardino sperimentale dedicato tutto a loro. Ci saranno delle grandi sorprese, io in primis li sto seguendo in alcuni dei loro appuntamenti, hanno già delle idee davvero non strampalate, ma idee concrete, che tengono conto anche di tutte le sensibilità e l'accessibilità di quel luogo. E quindi quest'anno terminerà la progettazione, stanno già lavorando addirittura su un grafico, ma anche su quello che è proprio una struttura da presentare alla città e in Consiglio Comunale. Dopodiché a fine anno andremo a progettazione con i tecnici per poi realizzarlo il prossimo anno. In ultima battuta, rispetto al cancello e al servizio di guardiania, ci stiamo assolutamente ragionando, perché lì manca un cancello che non è stato volutamente sostituito, in quanto dovendo rifare la progettazione tutta, abbiamo pensato di attendere la chiusura del progetto per poi andare a fare un investimento, è inutile buttare via soldi. È chiaro che anche il servizio di guardiania in questo momento è collegato al cancello, perché di fatto c'è solo un cancello aperto e gli altri rimangono chiusi. Stiamo valutando assieme all'amministrazione e alla Giunta delle prossime decisioni da prendere.